Amici sportivi, un cordiale saluto da Federico Ragona. Parliamo di eccellenza della gara del scontro a vertice di domenica all'essenetto alle ore 16 del campionato numero 28, tre giornate alla fine del campionato. E ancora è tutto aperto nel campionato di eccellenza. Si scontrano due squadre importanti della categoria tra Agagas e Enna, due società che meriterebbero entrambi di andare in serie D, due tifoserie che meritano entrambi di andare in serie D, ma soltanto una tramite la vittoria del campionato andrà in quarta serie, l'altra dovrà disputare i payoff. Andiamo a conoscere l'Enna, in prima posizione con 65 punti, 27 partite giocate, 19 vittorie, 8 pareggie, 0 sconfitte, 50 gol segnati, 14 subite, differenza a rete 36, media gol a partita, 1.9. Capo cannoniere, Corsimano dell'Enna. Andiamo invece a vedere l'Agagas di mister Terranova, allenatore dell'Enna, il signor Strano. Andiamo a conoscere l'Agagas di Terranova, un allenatore che ha già vinto diversi campionati, ha vinto anche i payoff con la Forgore, un paio di anni fa. Agagas in seconda posizione con 65 punti, 27 partite giocate, 20 vittorie, 5 pareggi, 2 sconfitte, 55 golle segnati, 8 subiti, differenza a rete 47, media gol a partita, 2. Capo cannoniere, Garufo, ex Canicatti e Trapani. Che dire, sicuramente sarà una bella giornata di sport, quella che si vedrà domenica all'Esteneto, la pre-vendita dei biglietti è da partita, dunque la società ha cercato di fare dei prezzi a portata di mani di tutti, si attente a una bella cornice di pubblico all'Esteneto. vi ricordiamo anche i prezzi dei biglietti di questa partita. In pre-vendita, tribuna centrale 12 euro, curva 5, tribuna VIP 20, donne in curva gratis, mentre sabato e domenica i biglietti costeranno in tribuna 15 euro, in curva 7, donne 5 euro, settore ospite 12 euro. tutti, sarà una bella cornice di pubblico, una bella partita di sport e che vinca chiaramente il migliore. Noi ci auguriamo che sia una bella giornata di sport. Grazie per averci seguito. Da Federico Ragone è tutto. Al prossimo video. Grazie. Grazie.